Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong e gli esercizi del contadino Li Jing Jing esercizi per rinforzare il corpo in generale e tratti dagli esercizi che facevano, cioè dai movimenti effettuati dai contadini nei campi di lavoro oggi facciamo l'esercizio numero 7 della seconda serie che serve a rinforzare il torace, il dorso e le spalle allora andremo a posizionare la mano dall'alto verso il basso che scende, l'altra mano cominciando con la destra e la sinistra invece sale da dietro e le mani dovrebbero andare a unirsi, quindi in fase di ispirazione andiamo ad unire le mani così, le teniamo per tutta l'ispirazione e poi le allentiamo durante l'ispirazione faremo 5-10 atti ispiratori, quindi 5 atti ispiratori, pausa, altri 5 alternando le mani laddove noterete c'è difficoltà ad unire le mani da dietro, non fa niente andiamo in fase di ispirazione a cercare di avvicinarle il più possibile mantenere la tensione e poi allentare quindi cominciamo con l'esercizio, andiamo a ispirare infiliamo, infiliamo bene se non arriviamo andiamo infilando a cercare di avvicinarci e poi andiamo a allentare quindi ispiriamo, ispiriamo, allentiamo, ispiriamo, teniamo, ispiriamo, lasciamo la presa cioè allentiamo la presa ispiriamo, ispiriamo, ispiriamo o tentiamo di avvicinarci, ispiriamo, ispiriamo, bene passiamo adesso all'altro braccio ispiriamo, 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 cerchiamo di avvicinare le due mani ispiriamo, 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 andiamo a sciogliere sciogliamo le braccia, sciogliamo le mani altre 5 respirazioni da una parte e 5 dall'altra cercando di mantenere di più la tensione avviciniamo le mani quindi afferriamo le e finiamo in fase di ispirazione se non le raggiungiamo cerchiamo di avvicinarci ispiriamo, restiamo ispiriamo, ispiriamo ispiriamo, ispiriamo ispiriamo teniamo ispiriamo ispiriamo teniamo ispiriamo ispiriamo teniamo ispiriamo sciogliamo passiamo dall'altra parte noterete anche che da una parte riesco ad afferrare con più facilità rispetto ad altra non fa niente dobbiamo soltanto creare una tensione se non di contatto, di avvicinamento e con la costanza andremo sempre più ad avvicinare le mani fino ad afferrarle ispiriamo 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 teniamo ispiriamo 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 sciogliamo bene finisce qui questa pratica degli esercizi del pontadino la numero 7 della seconda serie se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo noi ci vediamo alla prossima pratica ciao con Tao Power Life grazie